Eccoci all'entrata del British Museum. Quegli scale sono enormi. Di g Hole del passaggio con Gilles, La mia fabrizia è stata utile, perché invece è stata utile, non c'è un'acceito. Ma è stata utile, proprio quello che ho hanno fatto, la mia fabrizia è la mia difreeza, immer facciamo i concorrenti,